salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di lei una piccola videocamera di sorveglianza con caratteristiche davvero interessanti perché lei ha l'active track registra con un codec h265 registra in 2k e ragazzi è ad un prezzo attualmente su amazon scontatissimo a 45 euro ed ha interni e ha caratteristiche come vi ho detto davvero uniche quindi adesso senza perdere il suo tempo vediamo come configurarla e come funziona questa è svizz cp1 2k allora all'interno della confezione che è questa troviamo la videocamera di sorveglianza un alimentatore e un cavo per collegarla ovviamente all'alimentatore e poi è rimasto solo all'interno della confezione un manuale quick start quindi di avvio rapido che è questo e poi abbiamo se vogliamo fissare la videocamera al soffitto la possibilità utilizzando questo supportino in plastica e questi fischer possiamo andare a fissare la videocamera sotto il soffitto altrimenti la utilizziamo su un mobile su una scrivania su un tavolo dove vogliamo appoggiarla perché ragazzi la comodità di questa videocamera che è molto compatta ci dà una visuale a 355 gradi quindi abbiamo quasi una visuale completa dell'area che vogliamo monitorare e poi è super silenziosa nei movimenti e ha tantissime funzioni alla sirena integrata se volessimo far suonare la sirena quando lei rileva i movimenti possiamo regolare la sensibilità del diciamo del rilevamento del movimento ovviamente alla visuale notturna quindi anche al buio è in grado di vedere benissimo c'è tante tante cose che adesso vedremo pian piano appunto in questa recensione però ovviamente per prima cosa dobbiamo andare a configurarla quindi per configurarla basta andare nel nostro store che sia apple store o play store e andare a scaricare l'applicazione etzvitz eccola qua etzvitz io ovviamente l'ho già scaricata quindi mi fa fare apri vado ad aprirla una volta che l'applicazione è aperta ovviamente è possibile abilitare anche il face d all'interno dell'applicazione perché comunque per sicurezza o face d o tac d o codice quello che vogliamo perché comunque essendo una videocamera di sovveglianza abbiamo bisogno anche di una determinata sicurezza in certe situazioni o in certi utilizzi che noi dobbiamo fare con questa videocamera andiamo a fare più quindi andiamo ad aggiungere il dispositivo selezioniamo telecamere e andiamo a inquadrare il qr code che abbiamo qua sotto alla videocamera quindi andiamo ad inquadrare il qr code perfetto e vedete che la videocamera rilevata cp1 poi andiamo ad accendere il dispositivo perché il dispositivo in questo momento è spento il dispositivo come vi ho detto è alimentato da questo alimentatore e questo cavetto però non avendo una batteria interna ma essendo alimentato solo da alimentatore esterno se volete potete comunque alimentarla come faccio io in certe situazioni quando la voglio mettere magari in determinate stanze o in certe posizioni in cui non ho la presa di corrente comoda anche con un power bank quindi potete scegliere se alimentarla con il power bank o con l'alimentatore tipo adesso io sono qua sul terrazzo non ho una pesa vicino comoda in questo momento vado ad alimentarla con il power bank quindi vado a collegare il power bank lei va ad accendersi vedete che c'è un led rosso qui che si è acceso a questo punto una volta che lei è collegata la corrente vado a dirgli che il dispositivo è acceso faccio avanti poi collegare il dispositivo a tenere che si avvi completamente la spia blu deve lampeggiare poche parole una spia blu qua così piccolina non so se riuscite a vederla comunque c'è una spia blu che lampeggia a questo punto il dispositivo è pronto per finire l'installazione quindi andiamo a sflegare la spia lampeggia in blu facciamo avanti ok dispositivo e router devono essere vicini perché come sapete questi dispositivi devono essere collegati a una rete domestica quindi la videocamera va collegata al nostro router a questo punto facciamo avanti e vedete che mi dà già la mia rete wifi perché comunque io l'avevo già collegata per provarla ovviamente quindi lascio la mia rete wifi faccio avanti toccare avanti per collegarsi alla rete dispositivo quindi facciamo avanti accedi perfetto la videocamera è attivata e ci sta già inquadrando in questo momento sta inquadrando le mie mani perché altro a questo punto facciamo avanti possiamo selezionare il nome del dispositivo in questo momento mettiamo che ne so giardino posteriore ma tanto per vado a cliccare sull'immagine vedete che lei adesso carica ed è pronta ad essere utilizzata allora prima di tutto andrei a vedere nelle impostazioni cosa possiamo fare ecco qua vedete tutte le impostazioni l'audio l'abbiamo già attivato all'inizio led di stato lascerei attivato così sappiamo cosa la telecamera sta facendo luce IR la lasciamo attivata altrimenti al buio non avremmo comunque una qualità di immagine che sarebbero tutti quei puntini rossi che si formano intorno alla videocamera per inquadrare al buio quindi se dovete utilizzarla al buio è meglio lasciarlo attivato anche se poi magari con le luci vi danno fastidio però non ci sarebbe un diciamo una qualità dell'immagine buona se andate a disattivarle poi notifica allarme è spento vedete potete andare ad attivare cosa vuol dire che vi arriva la notifica quando lei rileva dei movimenti vi arriva la notifica nello smartphone in maniera quasi istantanea con ritardo di qualche secondo me vi arriva praticamente istantaneamente la notifica quindi giusto per farvi capire vado ad attivarle possiamo anche andare a pianificare le notifiche andare a visualizzare il calendario delle notifiche l'area di rilevamento vedete possiamo selezionare l'area di rilevamento ed è veramente anche questa è una cosa fighissima andare a selezionare solo l'area in cui vogliamo che arrivi la notifica quindi quando lei inquadra al di fuori di quell'area la notifica non ci arriva più vado ad annullare perché adesso non mi interessa giusto per farvi vedere sensibilità bassa in questo caso possiamo andare ad aumentare diminuire la sensibilità del rilevamento in base all'ambiente nel senso che se abbiamo una zona in cui ci sono dei movimenti che non sono di persone o meno ma che non vogliamo facciano scattare l'allarme andremo a regolare la sensibilità del rilevamento del movimento poi selezionare la modalità in questo caso silenziosa modalità audio o avviso sonoro cosa vuol dire che quando lei rileva un movimento avrà un suono quindi se io vado ad attivare avviso sonoro lei andrà ecco sentete che mi ha rilevato perché sono qua davanti suona e fa questo sirena ovviamente non fortissima ma che ci comunque ci avvisa adesso lo vado a disattivare sono continua a suonare quindi queste sono le impostazioni molto interessanti secondo me poi abbiamo allora ancora data e ora vi dicendo configurazione del wifi poi stato archivio che praticamente ci fa vedere tutto quello che lei ha registrato abbiamo un cloud che però è a pagamento è gratuito solo per mi sembra una quindicina di giorni se non sbaglio dopodiché sarebbe a pagamento e quello è uno spazio infinito che abbiamo di registrazioni quindi tutto quello che lei registra quando c'è un movimento qualcosa va su questo cloud però è un abbonamento a diciamo a pagamento è solo per 15 giorni è gratuito se comunque non lo attiviamo non si paga mai quindi non è che se avete questa videocamera dovete attivarlo per forza no se lo volete sì se no altrimenti no o se no inserite una scheda di memoria che è possibile come capacità fino a 256 giga quindi la scheda massima che si può inserire di 256 giga quindi una bella scheda di memoria e avete risolto ogni problema di memoria dopo vi faccio vedere dove va inserita perché va inserita nella parte in cui c'è la videocamera poi vi faccio vedere poi foto criptata se andate attivare foto criptata ovviamente le immagini non saranno visibili quindi se non attraverso una password quindi se non si inserisce la password l'immagine sarà criptata e non sarà visibile a tutti quindi dipende cosa uno ne deve fare dei video e delle foto che va a scattare a livello di sicurezza poi vabbè capovolgere l'immagine perché questo se lo andate ad appendere al soffitto l'immagine va ribaltata poi modalità sospensione se voi attivate modalità sospensione andate a disattivare quello che è il monitoraggio della videocamera in maniera diciamo provvisoria fin quando non andate a riabilitarlo poi notifiche non in linea per avere le notifiche ovviamente quando non si è in linea poi manuale e informazioni queste sono tutte le impostazioni che avete all'interno di questo menu per quanto riguarda la configurazione della videocamera poi abbiamo invece queste icone qua davanti per attivare o disattivare funzioni cronologia video se io vado a cliccare mi darà una cronologia dei video che lei ha registrato in questo momento vedete sul cloud nessuno perché ce l'ho disabilitato e la micro sd in questo momento non è inserita poi dopo la vado inserire così magari vi faccio vedere istantanea se io clicco scatta un istantanea che poi mi trovo è disponibile nel telefono anche se non ho una micro sd nella videocamera istantanea è registrata nel telefono registra uguale se io faccio partire registra quello che sto registrando verrà registrato nel telefono non c'entra con la micro sd sono una cosa diversa perché la micro sd funziona in due modi con la possibilità di registrare solo quando lei rileva il movimento quindi quando lei rileva un movimento registrerà farà partire la registrazione per quando non rileverà più il movimento smetterà di registrare poi invece potremmo dirgli anche di registrare continuamente avremo questa possibilità poi pane tilt e cosa vuol dire la possibilità di andare a muovere la videocamera vedete perché comunque è questo joystick che ci permette di muovere la videocamera in base alle nostre necessità lei adesso continua a muoversi perché è attivato l'active track che questo che è una cosa che volevo farvi vedere vedete che qua c'è active track rileva movimento se io vado a cliccare qua lo disattivo lei se io mi sposto non mi segue ma se io lo vado ad attivare vedete che lei mi segue se io mi sposto e mi sposto da questa parte lei arriva quindi questa è davvero una cosa utile soprattutto se avete in casa anche dei bambini quindi dovete controllarli adesso lo vado a disattivare se no magari ci fa venire un po di mal di mare continuare a muoversi e guardare il telefono allora questa funzione secondo me è utilissima soprattutto come vi ho detto se avete un animale in casa e dovete controllare l'animale domestico dovete controllare un bambino che magari voi siete nel piano di sopra lui da basso che gioca o in giardino o sul terrazzo quindi tante situazioni che non sono solo la sicurezza dal punto di vista dei ladri che ci entrano in casa ma proprio una sicurezza nostra interna della nostra famiglia quindi un animale domestico un anziano che magari vogliamo controllare che non si faccia male che vogliamo vedere cosa stia facendo tutte queste cose che secondo me rendono questa videocamera davvero davvero utilissima poi torniamo fuori da questo menu abbiamo parla parla cos'è la possibilità di parlare attraverso la videocamera cosa vuol dire che se io vado a cliccare qua e attivo il microfono sentite la mia voce che esce dalla videocamera adesso lo vado a disattivare se non si capisce più niente quindi se voi avete questa videocamera e dovete siete nel piano di sopra o siete fuori e vedete il vostro figlio che sta facendo qualcosa di sbagliato non dovete correre a dirgli no o anche il cane che sta facendo qualcosa che non va bene e volete intervenire in maniera velocissima parlate e gli dite no fermo no cosa stai combinando no 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 perché normalmente si dice sempre ogni frase in cui dobbiamo sgridare inizia con no quindi no 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 e via dicendo e poi l'ultima cosa che volevo farvi vedere definizione definizione cos'è la definizione non della micro sd sulla micro sd lei registra al massimo della sua qualità come ho detto inizio video all'h265 c'è anche un codec video di ultima generazione che non hanno neanche tantissime videocamere che sono proprio nate come action cam o videocamere proprio per registrazione di qualità non hanno l'h265 questa anche l'h265 oltre che registrare in 2k quindi abbiamo qualità abbiamo una compressione più alta perché l'h265 la differenza dell'h264 ha una compressione più alta mantenendo però una qualità maggiore quindi occupa meno spazio nella micro sd ma mantiene una qualità maggiore rispetto all'h264 poi invece possiamo selezionare la qualità del ritorno video live cioè in base alla nostra rete internet possiamo dirgli ultra hd cioè il massimo della risoluzione ma sarà tutto magari più rallentato più scattoso se la nostra rete internet non lo supporta invece facciamo la via di mezzo avremo una qualità un pochino più bassa ma più fluido e ovviamente se faccio standard avremo ancora più fluidità nei movimenti e una migliore qualità ovviamente però dipende tutto da cosa vogliamo e come vogliamo vedere la live nel telefono come vi ho detto non c'entra con quello che è la micro sd adesso che vi ho fatto vedere praticamente tutto quello che in grado di fare questa videocamera tutto quello che a livello comunque di funzioni perché comunque vi ripeto costa attualmente su amazon 45 euro ragazzi correte assolutamente a dargli un'occhiata perché a 45 è una videocamera di sorveglianza davvero davvero super interessante perché vi dà comunque delle soluzioni e degli utilizzi veramente incredibili a livello punto di sicurezza ma non solo di ladri come vi ho detto ma proprio di sicurezza familiare se avete animali bambini anziani e via dicendo allora una cosa che voglio farvi vedere appunto inserire la micro sd per inserire la micro sd vado a spegnere la videocamera perché la micro sd va inserita in questa posizione quindi va alzata la videocamera e va inserita la micro sd nello slot ecco qua perfetto qua abbiamo anche un tasto di reset nel caso doveste fare un reset della videocamera qua sotto c'è il piccolo tastino di reset ok adesso la micro sd è inserita vado a riaccendere la videocamera perfetto la videocamera serie accesa allora se io torno nel menu delle impostazioni e scendo fino alla scritta stato archivio vedete che abbiamo adesso scheda di memoria in uso registrazione solo le attività cosa vuol dire che se io clicco sopra qua posso innanzitutto formattare la scheda che è una cosa che vi consiglio soprattutto se inserite una scheda che non è mai stata inserita in questa videocamera formattatela fatela formattare a lei perché comunque è sempre meglio formattare le micro sd con il dispositivo in cui vengono inserite perché almeno le formatta nel formato più giusto per quello che deve essere utilizzata quindi una volta formattata cosa abbiamo vedete possibilità di registrazione solo attività che sarebbe appunto come vi ho detto registrazione dei movimenti quindi quando lei rileva un movimento fa partire dalle registrazioni che durano pochi minuti giusto il tempo finché lei non rileva più un movimento finché lei continua a rilevare i movimenti continua a registrare dal momento che con movimento non c'è più si ferma e poi appena il movimento ricomincia lei ricomincia a registrare altrimenti possiamo fare tutto il giorno a questo punto ci darà la possibilità di registrare il video tutto il giorno però ci dice anche questa cosa dopo aver abilitato questa funzione aumenta il rischio di danneggiare il supporto di memoria a causa delle frequenti letture del medesimo abilitare ugualmente no ho acceso cosa vuol dire che possiamo andare a rovinare la micro sd non è che si rovina la videocamera che la micro sd a continuare a registrare non registrare ferma e potrebbe danneggiarsi è un avviso però se abbiamo la necessità di dover fare questo tipo di registrazione secondo me si può fare tranquillamente secondo me un pochino loro spingono su questa cosa così uno attiva il cloud che è un'opzione a pagamento per quello che secondo me loro danno questo avviso sicuramente c'è questa possibilità però sicuramente anche il dato dal fatto che uno magari dice no calcio bisogna registrare sempre allora attivo il servizio cloud e pago appunto questo abbonamento e non uso la micro sd in continua registrazione secondo me c'è un pochino che questa cosa però sicuramente c'è anche la possibilità che si possa danneggiare adesso una cosa volevo farvi vedere che allora andando attivare l'active track ok la videocamera ovviamente mi rileverà nei miei movimenti o meglio continuerà a seguirmi vedete che la notifica è arrivata il telefono lì sul tavolo per quello che indicavo lì e la videocamera sta registrando comunque il video di questa situazione nel senso che quando lei ha rilevato il movimento ha iniziato a registrare nella micro sd appunto tutta la situazione in cui lei vede dei movimenti una volta che io dovesse uscire dall'inquadratura della videocamera quindi lei non mi trova più tipo adesso lei non mi vede più quindi va ad interrompere dopo qualche secondo la registrazione quindi ritorno qua vado ad interrompere l'auto tracking perché comunque se no continua a muoversi destra a sinistra allora adesso torno nel menu ritorno nella videocamera faccio cronologia video vedete che in cronologia video avete questo rettangolino giallo che sarebbe quella registrazione che ha fatto lei poco fa quando mi ha registrato nel movimento che ho fatto alzandomi dal tavolo e camminando qua dietro alle sedie quindi avrete tutti questi riquadrini gialli con l'orario che vanno ad indicare appunto la registrazione di quel diciamo quel periodo in cui lei ha rilevato movimenti poi come vedete che si è interrotto nel momento in cui lei non mi ha più rilevato movimenti è andata ad interrompere infatti se io vado alla fine del del riquadrino giallo ok quando io sono uscito dalle inquadrature quindi lei ha inquadrato praticamente la situazione senza di me è andata ad interrompere la registrazione vedete che quando io sono uscito all'inquadratura lei dopo un qualche secondo ha interrotto la registrazione quindi ragazzi cosa dire queste videocamere sorvegliante secondo me è davvero davvero incredibile per tutte queste cose per cui vi ho detto queste caratteristiche sicuramente interessanti per una videocamera che costa solo 45 euro è utilizzabile in tante situazioni che possono essere con i bambini con gli anziani con i nostri animali domestici ovviamente con i ladri quindi tante situazioni in cui lei può essere utilizzata perché davvero pratica e davvero comoda l'applicazione facile intuitiva cioè poi è in italiano l'applicazione quindi davvero super quindi ragazzi vi straconsiglio questa ezwitz cp1 2k perché sicuramente è una videocamera sorveglianza rapporto qualità prezzo davvero davvero incredibile quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato la mia recensione la mia opinione di questa ezwitz cp1 vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler anteprime di quello che arriverà qua sul canale iscrivetevi sempre se vi va al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove metto anche le offerte di questa videocamera sicuramente anche lei arriverà lì ma come trovate anche qua sotto in descrizione e ovviamente ragazzi iscrivetevi al mio canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial o novità ciao